Ciao amici di Fantapaz, benvenuti in questo nuovo video, video settimanale sui consigli della prossima giornata, insomma che inizia tra poco. Partiamo subito con la porta dove ho messo Svilar, può sembrare una mossa a sorpresa, perché sono nomi non scontati naturalmente come vedete anche dal titolo e dalla copertina. Svilar secondo me, non mi aspetto che il Napoli faccia tantissime reti, ma mi aspetto che faccia invece un gran numero di azioni e Svilar potrebbe esaltarsi. È chiaro che potrebbe prendere anche magari una rete, però insomma, soprattutto per chi è il modificatore, Svilar potrebbe essere un'ottima mossa per avere un voto alto, perché potrebbe esaltarsi e quindi prendere un gran voto. In difesa ho messo Svoboda, Vojako e Beuchema. Svoboda nel Venezia con giocare contro il Lecce, Lecce che comunque cambia allenatore, si troverà anche spesso contro Krustovic che viene da un bel periodo in nazionale, però insomma 5 gol nelle ultime 40 partite, quindi non è in realtà. È un giocatore che può dare fastidio, però Svoboda mi aspetto che possa fare qualcosa anche dall'altra parte, nel senso su qualche calcio d'angolo o calcio piazzato a favore. Ultimamente comunque sta giurando discretamente, quindi mi aspetto che possa fare una bella partita. Vojako, Genoa Cagliari, anche il Genoa ha cambiato allenatore e Vojako secondo me è uno dei pilastri comunque del Genoa. Credo che continuerà a giocare ancora con il 3-5-2 per oggi, come avete visto dal video di ieri, secondo me poi cambierà l'atteggiamento di Viera. Però Vojako secondo me è un giocatore che può fare bene in questa partita, anche se avrà un cliente difficile come i piccoli. Però può essere una buona mossa. E Beuchema del Bologna contro la Lazio, anche lui partita difficile, però lui si sta, come anche i Lukumi, sono cresciuti entrambi con l'italiano. E Beuchema però sta giocando veramente molto bene nelle ultime partite, ci punterei. Insomma, è chiaro che la partita è difficile, la Lazio è una squadra che gioca molto bene, però anche qui può essere una buona mossa metterlo. Poi il centrocampo As, che era partito praticamente quasi, non dico fuori rosa, ma insomma comunque fu molto lontano da le gerarchie. Piano piano ha cominciato anche complice all'infortunio di Grassi, è diventato lui il titolare, da Versa ci sta puntando. Lui sta rispondendo comunque con ottime, perché si parla magari tanto di Smiley, di Goglicizze e di altri giocatori dell'Empoli, stesso Pezzella. O di Vitti, ma di Vasquez importa, ma insomma anche As fa parte di questo Empoli che ultimamente sta mantenendo comunque uno standard elevato. Somm del Parma, ci ricordiamo il gol contro la Juve, belle prestazioni contro il Milan. Diciamo lui contro le grandi si esalta, soprattutto perché il Parma, che già normalmente un po' con tutti, ha un atteggiamento abbastanza difensivo, una linea comunque discretamente bassa per poi ripartire e aggredire gli avversari, e ripartire insomma e mettere in difficoltà gli avversari. Quindi vi aspetto che Parma-Atalanta sia una partita sulla stessa falsariga, e quindi Somm potrebbe fare bene, anche se poi è ancora da capire se giocherà a centrocampo, oppure giocherà ad assaltatore come trequartista. Sicuramente da trequartista potrebbe far meglio, perché comunque lui ha lo scatto e comunque la progressione che altri nella rosa del Parma non hanno. Quindi mi aspetto una bella partita, nonostante chiaramente Parma-Atalanta sia la partita dove il Parma è sfavorito. In Como-Fiorentina, Bove, perché potrebbe giocare sia da centrale, ma anche da esterno-sinistro. Forse è più probabile quello, da vedere se giocherà sottillo o meno. In realtà potrebbe anche subentrare durante la partita, però mi aspetto che possa essere una partita interessante anche qui, perché comunque il Como è una squadra che tiene molto palla, attacca, però appunto se viene aggredita si può far male, soprattutto sulle fasce, ma anche centralmente, però insomma Bove potrebbe essere una buona mossa. Vesino, sempre Lazio-Bologna, insomma con i tanti problemi che ha avuto un po' la Lazio in queste settimane, fuori di A, Pedro non stava al meglio, anche se poi potrebbe giocare. Credo che Vesino giocherà ancora perché il centro-rampo a 3 ha funzionato a Monza, quindi mi aspetto che Vesino possa giocare. Ecco, insomma Vesino è sempre un giocatore che può dare fastidio sui calci piazzati. Ed è un giocatore comunque molto valido, ultimamente comunque si sta trovando bene anche con Baroni. In attacco Davis, non me lo aspettavo sinceramente perché aveva un concorrente importante come Lucca, lui aveva dimostrato poco, anche compice qualche infortunio, invece sta facendo bene, non segnando tantissimo, però mettendo in difficoltà un po' tutte le difese, la difesa dell'Atalanta la settimana scorsa, insomma prima della sosta, e quindi può essere una buona mossa schierarlo. Sanabria, che non è un giocatore che in assoluto mi fa impazzire, però la partita comunque con il Monza è una partita fattibile, il Torino ha bisogno dei suoi gol, Adams non è stato al meglio ad essere rientrato, probabilmente giocheranno insieme, ma comunque Sanabria in questo momento è il punto fermo, anche se deve cominciare a darsi una mossa e questa può essere la giornata giusta. E poi il terzo Poyampalo, ci aspettiamo che comunque lui spesso in casa, ma anche fuori perché è stato all'Olimpico, può fare bene. Poyampalo è una buona scelta per chiudere bene il weekend, il lunedì sera in realtà, che speriamo che possa segnare, naturalmente noi ve lo consigliamo per questo, perché potrebbe essere una buona scelta di fine giornata. Questi sono i consigli, come al solito, non scontati di questa giornata, io naturalmente vi ringrazio di aver visto il video, se vi è piaciuto naturalmente lasciate un like, eventualmente un'iscrizione se non l'avete fatta, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.